Buongiorno a tutti, sono Giulia Natale. Benvenuti alla prima puntata di Impronti Digitali, un ciclo di video per il progetto Riconnessioni. Qual è l'obiettivo di questi incontri? Esaminare insieme contenuti utili alla didattica, all'apprendimento, ma che sono differenti fra loro per il tipo di linguaggio che impiegano nel declinare il tema di ciascuna puntata. Oggi affrontiamo piante e alberi. Esploreremo quindi questi temi nei diversi linguaggi e nei diversi contenitori a nostra disposizione. Ci capiterà di selezionare materiale interessante su supporto di vario genere, carta e non, libri interattivi, libri illustrati, app, albi illustrati, podcast, narrativa, film, fumetti, ebook. Perché fare questo lavoro? Perché ciascuno di noi ha il diritto di apprendere, ma sappiamo anche che ciascuno di noi apprende in modo diverso. Quindi, lavorare con risorse diverse per linguaggio narrativo, arrivando al digitale anche, includendo anche il digitale, allarga la possibilità di arrivare a tutti i ragazzi allo scopo di non escluderne nessuno. Ci spostiamo fra informazioni e storie su carta per approdare infine a un digitale di qualità. Stefano Mancuso è uno scienziato ed è l'autore di L'incredibile viaggio delle piante. È il direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale di Firenze. E a noi perché interessa qui? Perché sa essere un grande divulgatore. Le informazioni scientifiche e l'esito delle ricerche di cui parla nei suoi libri non sono soltanto impeccabili, ma sono raccontate attraverso aneddoti, dati storici e con grande ironia. Il suo approccio divulgativo rende quindi la scienza appassionante per tutti, capace, secondo me, anche di conquistare i ragazzi avvicinandoli al mondo vegetale. Come quando divide le piante fra pionieri, fuggitivi e capitani coraggiosi, fuggitive e capitani coraggiosi, come nel caso della noce di cocco che naviga per mesi trasportando il suo seme. Un'avventura che, raccontata come la racconta lui, non può che restare impressa. Tra i tanti libri illustrati c'è L'inventario degli alberi, pubblicato dall'editore Lippocampo, che racconta per parole e per immagini le latifoglie, le conifere e le palme. È una passeggiata fra 57 eleganti schede per 57 alberi e arbusti di cui ci viene data informazione sulla longevità, l'altezza, il tipo di foglia, il tipo di frutto, l'ambiente che le ospita e gli animali che la circondano. L'approccio scientifico divulgativo offre nozioni semplici e chiare e riesce a dare il giusto peso all'importanza del mondo vegetale per il benessere di tutte le forme viventi sul nostro pianeta. Quindi, a me sembra che partendo da un testo come questo, possa essere più semplice introdurre concetti complessi come l'ecologia e le buone pratiche da attuare per la salvaguardia del nostro pianeta proprio perché veicolate dalla consapevolezza della bellezza della natura. Da un libro divulgativo di parole e immagini a un libro di narrazione per sole immagini. Immagini sullo svolgersi del tempo, un tempo diverso nello sviluppo di ogni doppia tavola, anche questo è pubblicato dall'editore Lippo Campo, un libro sullo scorrere del tempo, sulla conseguenzialità dei fatti, sulla causa-effetto. Lo inseriamo nella nostra rassegna per due motivi. Sono numerose al suo interno le tavole che rappresentano elementi vegetali, margherita, quercia, foresta, mela. E poi perché lavorare con un testo come questo, oltre ad apprezzarne l'eleganza grafica, ci mette nella condizione ottimale per introdurre con i bambini il concetto di passaggio, di trasformazione e di successione degli eventi. Tutti elementi che sono le premesse di senso su cui si fonda l'interattività nel digitale. Cioè, c'è una situazione A, partecipo attivamente interagendo sullo schermo, produco la situazione B. A questo punto mi sembra si agganci in modo pertinente l'app Piante, questo è il titolo, dell'editore Tinybop, trovate le indicazioni sotto, in descrizione, che vediamo nel montaggio che segue direttamente dall'iPad. Eccola qui, questa a proposito di piante del nostro tema su contenuti digitali, per i contenuti interattivi, questa è piante dell'editore Tinybop, che è un editore americano, esclusivamente digitale, che ha costruito la biblioteca dell'esploratore, di cui quest'app fa parte ed è considerato il secondo titolo. Vediamo che cosa ci offre. Adesso io sto registrando la mia voce, mentre la utilizzo con voi nella registrazione del video di questa esplorazione da condividere. Qui c'è, subito la vediamo, una chiavetta, che mi permette, facendo comparire o scomparire a richiesta questa lunga tendina con tante opzioni, di intervenire sulle impostazioni. Posso scegliere di inserire o di escludere le fascette che danno il nome agli elementi che compaiono nelle illustrazioni, alberi, nome di fiori, nomi di piante, tutto quello che è contenuto in questi habitat, nomi di animali, oppure posso cambiare la lingua, posso farla comparire in inglese, in spagnolo, in tedesco, in francese, in italiano, e scendendo, scorrendo nella verticalità di questa tenda comparsa, posso stabilire che cosa esplorare. Ogni elemento, molti degli elementi, sono interattivi. Vado poi a chiuderli tramite la X, torniamo all'italiano per vedere come si chiama questa pianta in italiano ed è la sanguinaria. Posso intervenire anche in modo autonomo dopo aver preso spunto da questi elementi. Io, ad esempio, sono andata a scoprire con una mia ricerca in parallelo che questo fungo fa parte di una famiglia che notoriamente è velenosa e questo è uno dei pochissimi non velenosi. peraltro non è molto ricercato e molto ambito perché pare abbia un forte odore di pesce per cui non è ricercato nella nostra cucina, ma non è velenoso. Poi abbiamo la tavola del rododendro gigante, tutta una serie di schede. L'esplorazione, questo è un momento di caricamento dell'app, l'esplorazione con i ragazzi è uno dei momenti più interessanti, soprattutto se condivisa su un grande proiettore di classe. Poi si può far intervenire nell'interattività a turno i ragazzi. Vedete, qui sono io che sto muovendo le lancette del tempo dall'icona qui in basso a destra. Cambia il paesaggio, cambia la luce, cambia la comparsa degli animali. Quando invece vado a fare touch su quell'icona in alto a destra, mi compaiono le indicazioni di dove posso trovare un'ulteriore interattività che non è un'interattività di fruizione, non è un'interattività attraverso la struttura dell'app, ma è un'interattività, in questo caso, di contenuti. perché vado a vedere l'aloe e sono io adesso che sto staccando le foglie dell'aloe che sono, lo sappiamo e se non lo sappiamo lo impariamo, molto carnose, ricche di acqua, tant'è che questo liquido viene raccolto e poi utilizzato. Questo poi posso far piovere, aumentare, ridurre le precipitazioni, interagire sul meteo. Ci sono tante opportunità di intervento. Passo attraverso le stagioni e posso rimanere impegnato anche piuttosto a lungo alla ricerca non solo del cambiamento degli scenari, ma anche delle informazioni che mi può essere utile raccogliere a scopo didattico o di intrattenimento. Tutte le app pubblicate e disponibili sugli store da TinyBuff sono app di qualità, di valore che comunque allenano alla ricerca e destano interesse direi per bambini fino alla prima media. Adesso torno in video io. Ci vediamo tra un secondo. Per un'esplorazione autonoma spero che quella precedente vi sia piaciuta. Per un'esplorazione autonoma invece vi consiglio la poetica Bloom dell'editore Megalern che racconta in modo interattivo le strategie riproduttive di tre semi. Tre soltanto, ma in modo molto interattivo per bambini un po' più piccoli. E qui ritorna la noce di cocco tanto cara a Mancuso. Trovate le indicazioni con il link di quest'app a quest'app nella descrizione sotto questo video. Per concludere con il tema di oggi a proposito di risorse cinematografiche mi è venuto in mente io ho pensato ma voi avrete sicuramente altre idee e troverete altri spunti così come per i libri così come per le app al film d'animazione L'uomo che piantava gli alberi tratto dal racconto di Jean Genot che è stato vincitore del premio Oscar per il miglior cortometraggio d'animazione nel 1988 e che è disponibile su YouTube. Cosa faremo nel prossimo incontro? Continueremo a muoverci fra risorse e supporti per progettare inclusione e didattica innovativa. A presto quindi con la prossima puntata di Impronte Digitali. di Impronte Digitali. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!